Salve, sono Padre Ignazio, priore della Pazia Benedettina di Montserrat a Barcellona. Vi saluto e vi do il benvenuto a nome del Padre Abate e dei miei confratelli. Colgo l'occasione per invitarvi a visitare Montserrat. Perché Montserrat? Perché Montserrat è un luogo dove si trovano insieme tre realtà molto forti e molto potenti per ogni persona. Una montagna, un santuario della Madonna e un monastero benedettino. In primo luogo la montagna. È una montagna molto particolare che si trova vicino a Barcellona, più o meno nel centro della Catalogna, formata da rocce sedimentarie. La sua struttura geologica è molto interessante per chi ne vuol sapere di più. Parecchi milioni di anni fa c'era un mare interiore dove confluivano diversi fiumi e che portavano i detriti e i sedimenti di questi fiumi. In un certo momento questi sedimenti sono venuti fuori e tutte le rocce che erano sotto l'acqua adesso si trovano fuori e formano questa montagna. Poi il vento, il ghiaccio, l'erosione ha dato le forme particolari che adesso ha la montagna che sono molto belle e che destano meraviglia. In secondo luogo il santuario. Già nel IX secolo è attestata la presenza in questa montagna di quattro capelle, una delle quali poi con il tempo sarà dedicata alla Madonna e diventerà uno dei santuari mariani più conosciuti del sud dell'Europa. La particolarità di questo santuario è che la presenza spirituale della Madonna si concretizza in un'immagine romanica di legno, scolpita in legno e policromata della fine del 1100, verso 1170 circa. Si chiama la Moreneta. Il nome deriva dal fatto che è una delle tante madonne nere che si trovano in Europa. Un'altra particolarità del santuario è la presenza del coro di voci bianche. Sono una cinquantina di ragazzi che formano parte di quello che qui chiamiamo la Escolania e che è uno dei cori più antichi dell'Europa e da una recente pubblicazione della BBC britannica, uno dei dieci migliori del mondo. Loro cantano nelle celebrazioni liturgiche del santuario e portano anche il loro messaggio di fede, di devozione, di amore, di pace e di bellezza tramite la musica in tutto il mondo, partecipando ai concerti o a incontri con altri cori simili. In terzo luogo il Monastero Benedettino, fondato nel 1025, quindi ci avviamo verso la celebrazione del primo millennio della presenza dei figli di San Benedetto in questa montagna di Montserrat. I monaci, come in tutto il mondo i monaci benedettini, cerchiamo qui a Montserrat di vivere la regola di San Benedetto lavorando, pregando, tentando di leggere la Bibbia e altri libri spirituali, tentando di cercare una formazione anche umana e cristiana, di conoscere noi stessi per poter aiutare anche altre persone e di fare tutto questo in comunità presieduti dall'abate e come dicevo all'inizio seguendo la regola di San Benedetto. La cultura, come si sa, è un elemento fondamentale e si può capire di quanto ho detto fino adesso, quindi qui in Monastero c'è una buona biblioteca e ci sono altri strumenti per facilitare la formazione dei monaci e altre strutture che tentiamo di mettere a servizio dei pellegrini. Penso specialmente al Museo di Montserrat che raduna da una parte una pinacoteca molto importante dove si possono trovare quadri dal Caravaggio fino a pittori contemporanei come Picasso, Dalì, Sean Scali, senza dimenticare autori di spicco dell'impressionismo francese e un nucleo corposo anche di pittori catalani della fine del 1800 e all'inizio del 1900. Poi c'è anche una bella collezione di archeologia dell'Oriente cristiano con lo scopo di illustrare il mondo della Bibbia e finalmente si può trovare anche nel Museo una piccola collezione di icone cristiane, la maggior parte di origine russa dal 1700-1800. Tentare di spiegare i rapporti tra l'Italia e Montserrat richiederebbe tanto tempo. Basta pensare in primo luogo alla persona di San Benedetto da Norcia che è il nostro padre nella vita monastica o al fatto che Montserrat appartiene alla congregazione benedettina Sublacense-Casinese in riferimento a Subbiaco e Monte Cassino due luoghi fondamentali nella vita di San Benedetto. Poi basterebbe pensare a tantissime capelle e chiese dedicate alla Madonna di Montserrat e sparse in tutta l'Italia. Cito soltanto per esempio l'altare della Madonna di Montserrat nella parrocchia di Santa Francesca Romana a Milano, la cappella della Madonna di Montserrat nella cattedrale di Alghero in Sardegna o la chiesa di Montserrat vicino a Piazza Farnese a Roma e che dà il nome alla via omonima. Riassumendo, possiamo dire che Montserrat è un posto dove si può cogliere in un ambiente di natura assolutamente affascinante la realtà più profonda dell'essere umano, la vita spirituale, la vita culturale, la vita sociale. Se volete conoscere l'anima della Catalogna e dei catalani venite a Montserrat perché Montserrat ne è il cuore.